360 minuti del Ticino 2015, breve descrizione del percorso, primo tratto del percorso, un tratto pianeggiante, discesa, veloce. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 ultima salita e poi discesa veloce verso il centro sportivo di Gola Secca. Grazie per la visione! 360 minuti nel piccino, stiamo lavorando per voi. Bravo!